Omega Simaster Aquaterra, l'armonia tra terra e mare nell'orologeria di eccellenza Nel mondo sofisticato dell'orologeria, il modello Simaster Aquaterra brilla come una gemma rara che unisce con grazia l'eleganza di città e mare. Questo orologio da pulso rappresenta l'equilibrio perfetto tra stile e funzionalità, offrendo una bellezza senza tempo insieme a prestazioni affidabili. Il Simaster Aquaterra è un tributo all'armonia tra il mondo terrestre e marino. Una delle caratteristiche più evidenti del Simaster Aquaterra è il suo design versatile e sofisticato. La cassa, spesso realizzata in acciaio inossidabile o materiali pregiati, è un esempio di eleganza senza tempo. Il quadrante presenta dettagli sorprendenti, tra cui indici rialzati e lancette luminose, che catturano l'attenzione e riflettono la cura ai dettagli degli artigiani orologiai. In alcune edizioni del Simaster Aquaterra troviamo visualizzate delle complicazioni come il cronografo, il GMT corraffigurato al centro la terra e i nomi dei paesi scritti tra un indice e l'altro o visualizzabile in subquadranti, la data ore 3 o 6, il day date e il calendario annuale visualizzato a ore 3. Sul quadrante possiamo trovare anche un contatore dei piccoli secondi generalmente a ore 6. Il Simaster Aquaterra è più di un semplice orologio da polso, è un compagno affidabile per ogni occasione. Sia che siate in ufficio, in città o in vacanza, questo modello si adatta con eleganza a ogni ambiente. Oltre al suo design affascinante, il Simaster Aquaterra offre anche prestazioni straordinarie. Dotato di movimenti meccanici di precisione, questo orologio è pronto ad affrontare ogni sfida. La resistenza all'acqua e le caratteristiche antimagnetismo lo rendono un compagno di fiducia sia sulla terra che sotto il mare. Il modello Simaster Aquaterra ha ricevuto l'attenzione di personaggi famosi e appassionati di orologeria che riconoscono il suo valore inestimabile. Molte celebrità e figure influenti del mondo dello spettacolo e degli sport hanno indossato questo orologio, contribuendo a sottolineare la sua versatilità e raffinatezza. La sua capacità di fondersi con qualsiasi scenario, dalla città al mare, lo rende un compagno ideale per l'uomo moderno. Ogni dettaglio di questo orologio racconta una storia di maestria artigianale e passione per l'arte dell'orologeria. Scegliere un Simaster Aquaterra significa abbracciare l'armonia tra terra e mare, l'eleganza senza tempo e la prestazione affidabile.